un momento signore arrivo subito un momento sono occupato vengo subito signore un momento un momento di pazienza prego si si arrivo arrivo signore arrivo buonasera buonasera signora buonasera io voglio mangiare un poco certo che desidera come primo piatto primo primo un sopa sopa tamata una minestra al pomodoro sì 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 si voglio dire sopa con Diga, bolletti, bolletti, no, 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 non grandi bolletti, no, 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 petito, petito bolletti, mignoni, petito. Capito, una minestra al pomodoro speciale. Sì, e secondo, come, come, di grande plata, di grande plata, bolletti, bolletti, chicken. Ah, una piccata, un'omeletta, un'omeletta. No, 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 omeletta, no, omeletta, 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 omeletti, omeletti, tutti animali produce omeletti, che po'. Ah, sì, scusi, un pollo arrosto. Un pollo arrosto. Sì, 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 e voglio dire con salati. Salati con tomati e maionesi. O l'insalata omeletta. Sì, sì, ho capito. E dopo mangiare desidera una tazza di caffè? No, 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 non caffè, no, 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 no. un gelato un gelato si un gelato si un gelato con frutti tutti i frutti ma non allora vediamo un po un minestrone diavolo al pomodoro un pollo arrocco con insalata mista e un gelato con frutto grazie signore il studio Signor Evo, chef, in tomatsop, un cake con salato e un creme con fraccia.